Assicurare un'informazione tempestiva alla popolazione. Questo è uno dei punti salienti che sono stati dibattuti in prefettura Messina nel corso di un incontro programmato per discutere le problematiche connesse alla raffineria di Milazzo. È stato presieduto dal prefetto Maria Carmela Librizi e hanno presenziato i sindaci di Contro, Qualtieri Sicaminò, Milazzo, Pasce del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Perniceto, il direttore dell'ARPA e il responsabile del Servizio Provinciale della Protezione Civile, il direttore generale della raffineria di Milazzo e rappresentanti dell'assessorato regionale territorio d'ambiente del Comando dei Vigili del Fuoco e dell'ASP. Si è discusso delle criticità della raffineria che si sono verificate nel corso degli anni, dell'allarme suscitato nella popolazione anche per le emissioni che hanno interessato tutto il territorio. Il prefetto ha ribadito che se dovessero verificarsi criticità la popolazione dovrà essere immediatamente informata. Una valutazione che è stata condivisa da tutti i sindaci. Questo consentirà di valutare se ci sono rischi per la pubblica incolumità in modo da comprendere quali comportamenti si dovranno adottare nell'immediato. Il prefetto ha comunicato anche di aver istituito un tavolo tecnico verso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, incaricato dell'adeguamento del piano di emergenza esterna dell'impianto, secondo le prescrizioni della Commissione Tecnica Regionale e delle osservazioni delle associazioni ambientaliste. Sarà previsto l'obbligo di informazione della popolazione riguardo alle emissioni. È stato riferito sull'approvazione del progetto relativo alla rilevazione e controllo degli odori molesti. Infine il prefetto ha evidenziato che completato l'aggiornamento del piano di emergenza esterna della raffineria si svolgerà un'esercitazione di protezione civile per testare la pianificazione dell'emergenza.